Alle quattro della scorsa notte ha dato fuoco ai rifiuti lasciati fuori da case e negozi nel centro storico di Saronno per la raccolta differenziata prevista di prima mattina. 50 anni, disoccupato e senza fissa dimora, ha appiccato sei incendi e poi è scappato, ma è stato subito preso, nelle immediate vicinanze, dai carabinieri accorsi sul posto con i vigili del fuoco. Un attimo prima, a dare l'allarme, erano stati alcuni cittadini, qualcuno particolarmente mattiniero e qualcuno amante delle ore piccole, che guardando dalla finestra su via Garibaldi avevano notato una sorta di nebbia. Nella strada, stretta e dove si susseguono case e palazzine, si era infatti creato l'effetto canyon. Tutto il fumo era rimasto lì, mentre a bordo via erano in fiamme sacchetti, carta e cartone. Da quelli che si trovavano quasi all'incrocio con via Caduti, vicino al municipio, ai rifiuti lasciati lungo la strada nei pressi della intersezione con via Taverna e verso Piazza Libertà. Un altro incendio era stato appiccato in Corso Italia, un altro ancora in via Genova. In tutto, appunto, sei incendi dolosi, con le fiamme accese nel più banale dei modi, con un accendino. Il piromane è stato arrestato, condotto al comando di via Manzoni e quindi è stato trasferito nel carcere di Busto Arsizio. A carico dell'uomo, italiano ed originario del Piemonte, anche un episodio del giorno prima, quando aveva danneggiato i distributori di alimenti e bevande nella centrale Piazza Libertà, che aveva pure cercato di incendiare. Inoltre è stato denunciato per rapine impropria. Mercoledì aveva aggredito con calci e pugni alcune persone che cercavano di impedirgli di allontanarsi da una pasticceria del centro senza pagare i prodotti che si era fatto consegnare poco prima.